Dietro di noi uno spaccato bellissimo in questo arrivo d'estate, siamo in una delle aree balneari più caratterizzanti della provincia di Palermo, qui sul litorale di Capaci. Alle nostre spalle l'isolotto, famoso in tutto il mondo, sembra un immaginario quasi perfetto se non fosse, signor Paolo, per alcune problematiche che continuano ad insistere da diverso tempo. Ci spieghi meglio la situazione? Allora, in questo luogo dove ci trova lei, 15 anni fa era deserta, si davano le seggie di sraio a gratis, da 15 anni presentando come associazione a Siaco, noi di Capaci, questi chioschetti sulla spiaggia, finalmente qualcosa si è visto. Però si può fare molto di più, perché l'unica impresa che abbiamo in Sicilia è la spiaggia, il turismo. Io ero pure consigliere all'autore industriale a Carini, Brancaccia, eccetera. Oggi per aprire un'industria ci vogliono milioni di euro. Magari le industrie vanno in fallimento con questa crisi. L'unica industria che può andare avanti è il turismo. Il turismo è Capaci, avendo mare, monte, città vicino, aeroporto vicino. Tra l'altro abbiamo un progetto di un porticciolo qui a Due Pazzi, nel fiume Ciacchea, che il comune di Capaci ha speso 250 mila euro per un piano particolarizzato del porto. Stiamo chiamando delle società che presentano progetti di finanza con capitale privato, perché i comuni, provincia, soldi non ne hanno. Di fatto la via Rapallo, il raccordo Carini-Capaci è della provincia e stiamo dando noi 400 mila euro, il posede, nei privati, per fare il ponte. Altri cittadini danno l'area privata a costo zero, che si raccorda Capaci e Carini a monte. Sotto l'autostrada, dove viene il porticciolo, c'è un altro progetto che l'hanno fatti i commercianti dell'Asseaco, gli imprenditori, che si allaccia il piazzale a mare di Capaci con Carini e Johnny Walker. E queste sono le industrie oggi della Sicilia. Consigliere Figuccia, siamo in un comune, come dicevamo poc'anzi, della provincia di Palermo, Palermo città metropolitana. Cambia il comune, ma la situazione è la stessa. L'imprenditore poco tutelato, che fa impresa, che si sforza ogni giorno di portare qualcosa a casa, è a fronte, vive sempre le stesse difficoltà e i stessi disagi. Cosa chiedere all'amministrazione comunale? Crimi, che come me ha qualche capello bianco, ha detto quasi tutto, il futuro della Sicilia è e può essere soltanto il turismo. Ai giovani soprattutto dobbiamo fare capire che questo è l'unico settore dove effettivamente si può investire per una rinascita della Sicilia. Noi ci crediamo molto, un messaggio forte agli amministratori locali per dire impegnatevi, impegnatevi, impegnatevi. Basta demagogia, lavoriamo soltanto su quello che noi possiamo fare e cioè le nostre ricchezze. Alessandro, tu vivi quotidianamente questo contesto che al di là delle problematiche è bellissimo, lo dicevamo, lo sottolineavamo, un luogo a vocazione turistica. Quanto è importante continuare ad investirci e a preservarlo? È molto importante, il paese e la spiaggia di Capaci sono dei posti meravigliosi, stupendi. Occorre un po' più di sensibilità da parte dell'amministrazione comunale affinché possa anche essi investire all'interno di questo circuito. Spiaggia, paese, litorale eccetera. Quindi è importante che noi investiamo ma che investa anche l'amministrazione comunale affinché le cose possano andare molto meglio.